Ciao ragazzi! La fine dell'anno è generalmente il momento in cui tirare le somme. Io non sono molto d'accordo con questa cosa, nel senso che secondo me le somme sarebbe più opportuno tirarle a ogni fine giornata, per capire se si sta bene, se si è felici, se si sta andando nella direzione giusta e soprattutto se si sta percorrendo la via di realizzazione del proprio dharma. Comunque oggi siamo verso la fine di questo 2018, quindi le cose combaciano. Io in questo video non tirerò le somme, però darò alcuni spunti di riflessione, ecco diciamo così. La mia personale riflessione, meditazione in questo fine 2018 è fondata, è basata sulla consapevolezza che sto cercando di diffondere, che pur nella nostra individualità, pur nella nostra unicità, siamo tutti uguali, non c'è differenza fra me e te, o fra me e lui, o fra me e lei. Siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti sullo stesso pianeta, siamo tutti parte dello stesso tutto. Per anni, diciamo anche per millenni, hanno cercato di tenerci divisi, hanno cercato di farci essere in lotta fra di noi e devo dire che ci sono riusciti benissimo. Da la mia lingua è migliore della tua, il mio dialetto è più bello del tuo, i pinoli di Pisa sono più buoni di quelli di massa, fino ad arrivare a il mio Dio è più vero, più unico e migliore del tuo Dio. Ecco, tu oggi, noi oggi abbiamo il potere, il potere in sanscrito si chiama Siddhi, quindi abbiamo il Siddhi di prendere coscienza, di prendere consapevolezza di tutto ciò e uscire da questo inganno, da questo grande blef in cui ci siamo ritrovati. Uscire da questo gioco, da questa recita del tutti contro tutti ed entrare nel mondo della serenità dove nessuno è contro nessuno e dove ci si circonda solo delle persone simili a noi per poter stare bene. Uscendo anche e soprattutto dai litigi con la nonna, lo zio, la moglie, la fidanzata, l'amante, il cane e il gatto. Certo, se stai bene lì, se sei felice di quello che stai facendo, continua a farlo e continua a stare lì. Però se senti che c'è qualcosa che non va, se non sei felice, tu hai il potere oggi stesso di cambiare o quantomeno più realisticamente hai il potere oggi stesso di intraprendere la strada che ti porterà verso il cambiamento. Oggi, almeno nell'oggi in cui sto registrando questo video, è il 25 dicembre, quindi mi concedo anche una piccola divagazione religiosa. Ci sono molte religioni che predicano l'amore universale, che dicono siamo tutti fratelli, siamo tutti uguali. Se non che poi ti obbligano a pregare Dio, a invocare i santi, a seguire i profeti. Io che attualmente non seguo nessuna religione in particolare, vorrei tantissimo qualcuno che dicesse Il Dio smetti di invocarlo, smetti di pregarlo e inizia ad amarlo. E quindi, amando il Dio, qualunque Dio, qualunque fonte della creazione, non potrai fare altro che amare la sua creazione, le sue creature, dai fiori alle piante, al cane, al gatto, alle mucche, ai polli, al tonno e al salmone. E poi impegnati al meglio delle tue possibilità per vivere in armonia con tutto ciò che ci circonda e impegnati il più possibile per aiutare più esseri viventi possibili nella progressione del loro cammino spirituale. Ecco, come spesso accade, se non trovo nessuno che me lo dica, me lo dico da solo. Namaste Ani 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 Ani